O Dio, fonti di ogni santità! Tu hai voluto che la Beata Marianne, Vergine ardenti d'amore verso il tuo figlio, si dedicasse con zelo e sapienza all'educazione delle giovani. Concedi a noi, per sua intercessione, di seguire Gesù Redentore in semplicità di spirito. E di mostrarlo nelle parole e nelle opere come il Maestro ha i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.